Proverò il nuovissimo Electric Glow di Essence e se non sapete questo prodotto è molto venduto quindi se lo trovate prendetelo è un prodotto che reagisce in basse al vostro pH delle labbra vi va a dare un effetto nutriente e di lunga durata ha una super pigmentazione dice che ha una texture cremosa è un colore di lunga durata e va a dare alle vostre labbra un colore rosato naturale e soprattutto è un prodotto vegano adesso lo apriamo insieme all'interno ha dei micro diamanti wow bellissimo poi questo colore rosato sembra un diamante wow e poi è super super frottato che buono questo è il colore come vedete adesso vedrò che colore mi dà sulle mie labbra vediamo un po' e guardate un po' questo è il colore che è venuto sulle mie labbra bellissimo è un colore rosato molto molto naturale molto bello mi piace un sacco perché sembrano che ho le labbra sane bellissimo mi piace da morire e come vedete anche è molto luminoso vi va a dare una luminosità sulle vostre labbra pazzesche vi posso assicurare che di persona è ancora ancora più bello quindi io ve lo super super raccomando se lo trovate prendetelo perché prima che se ci lo riproponga di nuovo ci vuole un pochino e poi ha un costo piccolo piccolo mua